Buongiorno, mi chiamo Mara Semenzato, sono il coordinatore della commissione di ingegneria biomedica dell'ordine. La commissione che io coordino è composta da dieci componenti e noi concentriamo la nostra attività sull'organizzazione di eventi formativi che riguardano la nostra professione che è abbastanza di nicchia. Abbiamo organizzato visite tecniche, corsi di approfondimento della normativa sui dispositivi medici, sui nuovi regolamenti della commissione europea, visite a imprese, a ditte della provincia ma anche di ospedali. Nel prossimo anno noi abbiamo già in programma eventi di questo tipo tra cui un corso sui nuovi dispositivi medici diagnostici in vitro, una visita a un ospedale universitario con delle tecnologie avanzate sulla diagnostica e poi avremo una serie di seminari in cui ci saranno delle imprese che rappresenteranno, ci illustreranno le loro nuove tecnologie soprattutto anche con le nuove applicazioni di intelligenza artificiale alla medicina.